La mucinosi focale orale rappresenta una rara condizione del cavo orale ed è la controparte della mucinosi focale cutanea. È una malattia ad eziologia sconosciuta. La causa più probabile è una iperproduzione di acido ialuronico da parte dei fibroblasti. È una lesione molto rara. Al momento sono descritti soltanto 48 casi in letteratura. Clinicamente si presenta come una neoformazione asintomatica e dal punto di vista estologico c'è una zona di tessuto connettivo mixomatoso contenente materiale mucinoso e circondata da tessuto fibroso denso. La mucosa sovrastante l'osso sembra essere particolarmente vulnerabile. È il sito più colpito all'interno della cavità orale e la gengiva. Il secondo sito maggiormente colpito è rappresentato appunto dal palato duro. Le lesioni hanno generalmente il medesimo colore della mucosa circostante e sono difficili da diagnosticare proprio perché non hanno caratteristiche cliniche distintive e solitamente si possono confondere con i pulidi e anche con fibromi. La terapia è la rimozione di queste bande tessutali che poi vengono analizzate dal punto di vista estologico per poter porre la diagnosi di certezza.